26 settembre 1960. Il leader cubano, Fidel Castro, interviene per la prima volta alle Nazioni Unite. Il leader Maximo parla al Palazzo di Vetro per 4 ore e 29 minuti. Sarà il discorso più lungo nella storia dell'ONU. Nel suo secondo intervento, nel 1970, Castro parlerà per oltre due ore.